Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Trasformare la SP Alto Calore in una società di diritto pubblico, il fallimento può aspettare. La liquidità di cassa consente di tenere in vita lente e ripianare nel tempo i 140 milioni di euro di debiti accumulati. Ne sono convinti i rappresentanti della rete Acqua Bene Comune. Un'assemblea folta e partecipata trova ospitalità in provincia. A dar vita al movimento trasversale sono partiti, associazioni e sindacati. La prossima settimana è atteso un vertice tra l'azienda idrica di Corsi Europa, governo e regione per capire chi e se metterà mano al portafogli. Diversamente l'assemblea dei sindaci potrebbe optare per l'ingresso dei privati. I comitati si oppongono con fermezza. Il Parlamento, dicono, potrebbe varare una legge a breve che imporrà la trasformazione pubblica di tutti i gestori. Non si tratta di tecnicismi. Se nella gestione entrano i privati, come sta succedendo in gran parte d'Italia, le cose vanno malissimo. I prezzi dell'acqua salgono, la qualità dell'acqua scinde. Ovviamente nessuno regala soldi per salvare aziende per poi non trarne profitto ulteriormente. Questa è una fantasia, una favola. L'abbiamo visto in altri territori. Se si dovesse passare alla privatizzazione lo vedremmo anche qui, non c'è dubbio. Mi faccio fare l'avvocato del diavolo, l'ultima battuta. Il pubblico ha gestito per 80 anni alto calore, eppure ha fatto clientele per la politica. Insomma, il sistema comunque non è andato. Forse con un privato ci sarebbero investimenti ed un sistema comunque migliore. Ci rendiamo conto che la privatizzazione è esattamente il modo con il quale chi ha gestito fino ad oggi in questo modo alto calore continua a salvare la gestione pregressa senza fare i conti con i guasti di quella gestione. Invece bisogna fermarsi e andare a vedere dentro quell'azienda, risolvere il problema di quell'azienda, fare in modo che i consigli comunali siano più coinvolti in quell'azienda, che i cittadini siano più a conoscenza dei problemi di questa azienda, per fare in modo che ci sia una gestione efficiente e efficace, ma la privatizzazione è esattamente la continuità con la gestione clientele fino ad oggi e per salvare quella gestione che si vuole privatizzare e che da tanto tempo che c'è il progetto di privatizzazione di alto calore. Disponibilità al dialogo dall'amministratore delegato di ACS, purché si trovi una soluzione. Le strade da percorrere sono tutte percorribili, basta avere la volontà e l'aiuto di qualcuno, della regione, del governo. Le associazioni da sole non bastano, perché sono bravi a lanciare iniziative, io le apprezzo, io pure ho vissuto tanto nell'associazionismo, però c'è bisogno, questa è una società per azione, ha bisogno di dare sicurezza sia ai lavoratori sia al servizio, quindi abbiamo bisogno chiaramente dei fondi che abbiamo detto che servono per salvare l'alto calore, cioè i famosi 50 milioni, che se il pubblico non le vuole dare, il privato non deve entrare, insomma da qualche parte dovranno per uscire. Questa è una questione seria e concreta.